Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione del libro Sostanze. Ciao Simone, ciao Emanuele, buonasera a tutti. Dato già il mio ruolo, non proprio, diciamo, usuale, sicuramente sarà una presentazione del tutto particolare. Quindi, di solito c'è un giornalista, invece, stavolta... Sì, effettivamente non sarà una presentazione usuale come di solito accade, perché durante le presentazioni accadono due cose. La prima è che il giornalista spesso non conosce l'autore, non ha letto magari neanche il suo libro, gli fa quindi delle domande passivamente, ricevendo passivamente delle risposte. Ma nel nostro caso questo problema non si presenta perché ci conosciamo benissimo, quindi c'è un problema, abbiamo sormontato. La seconda cosa che accade durante le presentazioni, di solito, è che l'autore cerca di convincere le persone che ha di fronte che il suo libro potrebbe cambiargli la vita, che potrebbe fargli vedere il mondo in modo differente, magari anche insegnargli qualcosa. In sostanza non è nulla di tutto questo, leggerlo non vi renderà persone migliori, non imparerete nulla di nuovo probabilmente, perché è stato studiato, è stato costruito per sfidarvi, per capire fino a che punto voi come elettore siete disposti a spingervi. Ecco appunto questo, diciamo, punto della sfida, però parleremo dopo di questo, perché è il punto carne di forse di tutto il libro. Sì. Diciamo che forse siamo interessati a sapere come nasce l'idea di questo libro. Beh sì, in effetti... Da dove appunto trai spunto. In effetti è meglio partire dall'inizio, andiamo per gradi. Diciamo che molti romanzi nascono magari dalla fantasia dell'autore, per un'idea, per un sogno. Il mio nasce in modo un po' inusuale, perché viene da un incubo. Ricordo perfettamente quella mattina del 4 febbraio del 2015, quando mi svegliai, trafelato dopo questo incubo, sul letto così un po' tramoltito, e la prima cosa che pensai fu, cavolo, non si può dormire neanche più tranquilli. Ero abbastanza scosso, ma diedi la colpa di quell'incubo, dallo stress quotidiano, la normale routine a cui tutti quanti noi dobbiamo affrontare ogni giorno. Quindi mi alzai e prosegui quella mia giornata. Arrivai a sera però, che avevo ancora in testa le immagini di quella tempesta di neve, di quelle persone che mi prendevano e mi sbattivano in una camionetta, che mi orlavano contro parole, che io non capivo, però sapevo che erano dirette a me personalmente. E a quel punto mi ritrovai casualmente con degli amici a parlare del significato dei sogni. Mi sono detto, non può essere una cosa casuale. Ho tirato fuori un po' di coraggio e gli ho raccontato quello che era il mio incubo. E loro cosa fecero? Mi incitarono a scriverlo. Ma non perché volessero che io scrivessi un romanzo, si è chiaro, non l'ho mai fatto prima. Semplicemente perché, quando ci svegliamo la mattina dopo un sogno, la nostra mente perde dei dati, dei ricordi. E provare a scriverlo incita il cervello a richiudere tutti quanti quei cerchi che sono rimasti aperti fino a quel momento, a dare un senso al sogno, a spiegarci magari anche perché lo si è sognato. Magari nel mio caso l'avrebbe pronata pesante della sera prima e devo dire che ha avuto buon esito, quindi. Ecco. Quindi a questo punto, diciamo, focalizzato il sogno, il sogno non era abbastanza un incubo, è un incubo anche abbastanza particolare, è stato scelto, perché io penso che nella vita tutti sogniamo e tutti più o meno ricordiamo un sogno. Però da questo sogno, preciso, hai deciso di scrivere questo libro. Beh, diciamo che... Come, a questo punto è nato proprio il libro, il tale libro da questo sogno. Sì e no, nel senso che non è stato poi proprio così semplice. Perché proprio questo sogno, proprio questo sogno ha deciso di poi dare il via alla scrittura e alla scrittura del sogno? La risposta più secca sarebbe perché mi ha letteralmente colpito. Però tutto questo ha avuto un iter, cioè ha voluto un attimo per metabolizzare, ecco, questa cosa. Tanto che io la mattina successiva, come ti dicevo, mi sono svegliato e di buona lena mi sono messo al tavolo della sala da pranzo con il mio computer e ho iniziato a scrivere. Il problema è che nel giro di un paio d'ore ero sommerso da queste parole digitali e non mi rendevo conto che il sogno era molto più complesso di quello che io immaginavo e saliva la voglia di scrivere qualcosa intorno a questo sogno. E poi accade un evento che io ricordo come fosse successo dieci minuti fa. sento una voce fuori campo che mi dice, cosa stai facendo? Alzo gli occhi dal computer e sull'uscio della porta vedo alle 9 di mattina, ancora in piaggiamo, mia moglie che mi guarda già con aria miacciosa. Quindi io tiro fuori il miglior sorriso che si possa tirar fuori alle 9 di mattina e le dico, amore, da oggi scriverò un libro. Lei silenziosamente si avvicina, si ghina su di me e guarda. Prima il monitor del computer e poi il monitor del computer. E poi mi dà tre pacche sulla spalla e mi dice, tu non stai bene. Si gira e se ne va lasciandomi lì come un catiro. Ora, il bello è che lei aveva tutte le ragioni per pensare che io non stessi bene, perché sono sempre stato un vulcano di idee, ma gran parte di queste idee poi non sono mai arrivato a compimento. Però quel momento a me mi ha stimolato, mi ha fatto pensare, non posso fermarmi qui. Era troppo forte la voglia di creare questa storia attorno al sogno e mi sono messo a scrivere. Devo comunque molto a lei perché se non mi avesse permesso di lavorare circa 70 ore a settimana a questo progetto, oltre al lavoro che già faccio, se non mi avesse sopportato durante il lungo anno di gestazione che ha avuto substanze, ecco io oggi non sarei qui a poter presentare il romanzo, senza contare che poi è diventata una delle mie prime sostenitrici ovviamente quando ha visto che il sogno era sfruttato bene, il romanzo stava venendo fuori, arrivavano i primi consensi editoriali. Quindi amore mio è la rossa qui davanti. Grazie, anche a merito tuo se sono qui. Però quello che noi vediamo qui esposto non è proprio il primo step del libro, no? Prima di questo c'è stato un altro, diciamo, un'altra parentesi in cui il libro è stato presentato col progetto un po' particolare, il co-funding, che ultimamente sta prendendo praticamente piede e che sostiene giovani talenti in qualsiasi lavoro si accingono a fare, in questo caso in un libro. Quindi tu hai presentato per la prima volta questo tuo manoscritto, ti sei presentato al pubblico tramite il crowfunding, quindi un'operazione che parte dal basso, quindi da sostenitori che ti hanno sostenuto non solo economicamente ma anche moralmente a proseguire il tuo progetto. È stata una spinta ulteriore. Sì, in realtà il bello del crowfunding è che tu puoi mettere online una tua idea, che sia un libro, una nuova architettura tecnologica, una bici a sette ruote, insomma puoi metterci quello che vuoi su una piattaforma dedicata. Le persone che visitano queste piattaforme, nel mio caso si chiamava Eppela, possono guardare il tuo progetto e se lo ritengono valido decidere di finanziarlo, di fare delle donazioni. Il progetto arriva a compimento quando è il momento in cui si raggiunge una cifra stabilita e in questo caso io ho potuto ritirare l'importo e creare il romanzo. Però, come dire, a me questa cosa non bastava. Il fatto di essere riuscito a stampare 75 copie e spedirle in poco meno di 40 giorni, spedirle perché era un regalo doveroso nei confronti di chi ha deciso di acquistare il libro, ecco. Questa cosa a me non bastava. Sentivo che avevo bisogno di stimolare il lettore in maniera differente, non solo con le parole. E quindi, visto che i fondi me lo permettevano, ho pagato 5 illustratori professionisti che hanno realizzato 24 illustrazioni per sostanza, che sono in questa edizione messe una per capitolo. C'è un motivo per cui ci sono le illustrazioni. Ora, queste rappresentano una parte, l'evento fondamentale del capitolo che si è appena letto e lo riproducono in maniera estremamente fedele, esattamente aderente a quella che è la trama. Questo perché alla fine del romanzo il lettore ha in testa non solo le parole che danno emozioni e che vengono quindi trasposte in immagini, ma ha la possibilità di avere nella sua mente la figura di ciò che è successo esattamente, andando a ricollegare l'iter di tutti gli eventi e raggiungendo quindi un finale ben specifico, anche se illustrato. Ora, la qualità di queste illustrazioni è altissima, io non credevo di poterla raggiungere, per questo devo ringraziare alcuni artisti che hanno partecipato, Francesco Tomaselli della Scuola Romana di Pumetto, Marco Patrucco della Sergio Bonelli Editore, Alessandro Scoccia, Tiziana Trimboli e Emanuele Alotta che sono tre professionisti freelance che hanno compiuto un lavoro veramente eccezionale, oltre ogni mia aspettativa, anche perché il nostro comunicare era tramite mail, messaggi, quindi era di basso livello, non potevamo incontrarci. Quindi grazie ragazzi. Quindi praticamente queste immagini, fatte da illustratori professionisti, quindi insomma hanno anche una certa autorità, forse hanno dato anche un qualche in più, affinché il libro possa essere stato operibile da qualche editore. Quindi avrei fatto poi le tue ricerche, diciamo, non ti bastava solo fare il cross-handing, visto tutti gli appoggi che hai avuto, i complimenti, mi fanno sempre piacere, hai deciso a un certo punto di dire, voglio provare a pubblicarlo con una casa editrice, e a un certo punto sei arrivato a Eremonizioni. Io faccio finta di non sapere nulla di come è andata, raccontaci un po' tu come è andata questa esperienza, come sei appuntato a Eremonizioni. Bravo, bravo, fai finta. Perché in realtà già creare un romanzo, fare uscire un romanzo fuori da un cross-handing è abbastanza difficile, la mia piattaforma inoltre non trattava libri, quindi chi andava lì cercava cose completamente differenti. Inoltre creare un progetto così complesso con le illustrazioni richiedeva un certo budget, e esserci riuscito ha tirato su di me gli occhi dell'editoria. Delle proposte pro-editoriali che mi sono state fatte non ne ho accettato nessuna, perché ogni casa editrice cercava di instradarmi in quella che era la propria idea di romanzo, e a me questo non andava, perché avevo stabilito un percorso per substanzia. Quindi ho rifiutato tutte quante le offerte e ho continuato a perfezionarlo, ovviamente non era al livello che adesso ci ha voluto ancora un po' di tempo, finché non ho incontrato l'Eremon Edizioni, che mi ha pubblicato, mi ha appoggiato, mi ha spinto fino ad arrivare qui in Mondadori, e i cui capi, direttori sono del final qui presente, e Emanuele che mi sta intervistando. Stiamo vivendo insieme questa fantastica avventura, insomma. Per me è fantastica. Sì, sicuramente per noi. Ovviamente stare davanti a un pubblico così, in una libreria prestigiosa con i Mondatori, è sempre un passo importante, ma che si dice che non è a livello mondiale, ma nazionale, comunque sì. Piano piano, a piccoli passi, e sono anche autori come lui, che ovviamente un editore sceglie di pubblicare per fare un ulteriore salto di qualità. Perché è stato scelto? Perché poi gli investimenti futuri? Tu parli del romanzo, di questa fatidica sfida, ecco, abbiamo iniziato all'inizio a parlare di questa sfida, un po' andare contro corrente, no? Un romanzo dovrebbe arricchire il lettore, dovrebbe fare questo. Tu dici, la sostanza non è questo, è tutt'altro. Ed è forse questa particolarità che ha spinto la casetrice a pubblicartelo e magari a curarti un successo, insomma, nei prossimi mesi. Inaspettato. Forse, esatto. Inaspettato, non lo so. Raccontaci quindi di questa sfida. Perché è una sfida, la sostanza? Allora, sì, in realtà, se prendiamo un pazziasi romanzo all'interno di una libreria, in modo particolare un thriller, la prima cosa che si nota quando vengono esposti degli eventi è, ad esempio, Massimo scende le scale, ferra, afferrò la maniglia della porta e la spalancò. È tutto narrato al passato, con dei verbi al passato. Questo è un meccanismo comprovato, che comunque fa avvenire i romanzi, non rende la storia meno godibile, ma inconsciamente il lettore, quando legge i verbi al passato, quando si riferisce ad un protagonista in terza persona, tende ad estragnarsi. La storia non accade a lui, accade al protagonista. Quindi il lettore diventa esclusivamente uno spettatore. Questo, in sostanza, non doveva accadere. E ho deciso di utilizzare alcuni stratagemmi per far sì che il lettore fosse effettivamente immerso nella lettura, che si rompesse quella parete di carta che c'è tra chi legge e il protagonista. Il primo stratagemma è stato quello di utilizzare dei verbi al presente. Tutti i fatti, in sostanza, accadono adesso, ora, davanti ai vostri occhi. Ne siete partecipi. Siete carnifici, a volte anche delle emozioni che provate in quel momento. Ora, questo è uno dei tanti stratagemmi che si possono utilizzare. Il secondo era quello di far conoscere al lettore esclusivamente ciò che conoscono i protagonisti. In sostanza, si parte da un punto fisso e si arriva dritti al finale. Non ci sono flashback, digressioni, dove il lettore può scoprire cose in più rispetto ai personaggi. Ed è una scelta voluta. Ora, è qui che si frantuma la parete di carta, perché il lettore segui i protagonisti, evolve con loro, ma i protagonisti compiono delle scelte. Queste scelte hanno delle ripercussioni sul mondo in cui vivono. Cosa sei risposto a fare se ti venisse tolto ciò che per te è veramente importante? Il libro non lo chiede ai protagonisti, lo chiede a voi, perché loro hanno preso le loro scelte, avranno le loro ripercussioni, ma fino a che punto siete disposti ad appoggiare un personaggio, a seguirlo nella storia e ad amarlo nel momento in cui prendete le scelte che non condividete, ma che in quel momento sono fondamentali, ecco. Substanzia, tira fuori le vostre emozioni a forza dalla prima all'ultima pagina e vi costringerà a schierarvi. E' una delle prime cose che ci hanno colpito, ma non l'unica, perché quello che ha meravigliato è stato il fatto di trovare in un attore esordiente che ha estrapolato un libro corposo da un sogno, ha trovato la strada per scrivere una trama effettivamente complessa, su più livelli, su più spazi temporali. Insomma, la trama e la struttura ci hanno convinto a dire Substanzia va pubblicato. Quindi questa struttura, parlaci un po', insomma, come l'hai creata, come hai fatto nei tuoi scompartimenti mentali ad arrivare a svolgere, a fare la storia senza intoppi, è tutta coerente, ci sono dei punti su cui bisogna essere molto attenti, perché niente è lasciato al caso in questo... Quindi dici come hai fatto? Praticamente sì. Come ho fatto? Allora, sostanzialmente mi sono dato dei punti fermi per scrivere questo romanzo. Avevo due obiettivi principali. Il primo era quello di creare una storia complessa, profonda, ma allo stesso tempo di facile approccio. Il secondo era quello di inserire un colpo di scena all'interno di ogni singolo capitolo. Ma nei classici romanzi, i colpi di scena avvengono più o meno in questo modo, il personaggio apre la porta, si trova qualcuno al di là della porta e lì, con un'esclamazione, si chiude il capitolo, lasciando un'altra suspense. In sostanza, i colpi di scena sono leggermente differenti, diciamo così. Il protagonista apre la porta, trova qualcuno che conosce, ci parla magari, si gira per chiuderla e quando va per parlargli di nuovo, questo tira fuori una pistola e gli spara. E quindi, non è ovviamente una scena del romanzo questa, non vado a raccontarvi nulla, ma quindi sono questi i colpi di scena presenti nel romanzo. Vi dovreste chiedere, vi chiederete nel momento in cui andrete a leggerli e adesso mi ero costruito delle certezze. Dopo due, tre, quattro, cinque capitoli conoscevo dei personaggi, invece no. Ogni singolo capitolo ci sarà un colpo di scena che stravolgerà il vostro modo di vedere la storia e di vedere anche i protagonisti. Ora, riguardo invece la struttura del romanzo, mi piace riparlare di substanzia come un romanzo a strati, perché fondamentalmente esistono due tipi di lettori, quelli meticolosi, particolarmente attenti, che alla fine del romanzo ricordano le minuzie delle prime pagine e le vanno a concatenare, arrivando a intuire il finale appena prima che si verifichi. E questo tipo di lettore avrà di che divertirsi, perché mi sono cimentato a inserire all'interno di tutto quanto il libro circa 20 particolari, che se notati, ci porteranno pian piano a cercare di intuire il finale del romanzo, con però un colpo di scena finale che ovviamente non potrà essere che una sorpresa. L'altro tipo di lettore invece è quello meno attento che legge una storia semplicemente per il piacere di leggerla, come giusto che sia, e non è un modo sbagliato di approcciare un libro. Quindi voi vi chiederete adesso chi legge in treno, sommerso dalla gente, dagli schiamazzi, non capirà substanzia? No, perché le ultime 20-30 pagine sono state costruite per svelare, per girare tutte quelle carte rimaste coperte fino a poco prima e rendere quindi il finale ineluttabile. Quindi, adesso che Simone sembra che si stia sciogliendo un po' dall'emozione iniziale, insomma, adesso parliamo, parliamo insomma di, senza senza svilare nulla ovviamente, dei protagonisti della storia, con ogni romanzo ha dei protagonisti anche qui ben strutturati. La particolarità, un'altra, unesima del romanzo, è quella che parte in un modo la storia di ognuno dei personaggi e si stravolge in due pagine successive. In due pagine successive la storia completa e stravolta. Quindi, parlaci un po' di due protagonisti principali della tua narrazione. Sì, effettivamente racchiudere in poche parole la trama di un libro in generale lo sminuisce sostanzialmente, ma in questo caso i due protagonisti sono molto esplicativi di dove, spiegano dove si parte con il romanzo e si capisce immediatamente nel giro di poche pagine dove si andrà a parare o perlomeno si tenta di capirlo. Ecco, in sostanzia inizia con un prologo di dieci pagine. In questo prologo che ci fa capire che ci troviamo alla fine della storia. Siamo arrivati ad un punto. C'è un personaggio, un uomo all'interno di una stanza tenuto rinchiuso, legato, costretto e di fronte a lui due esponenti militari che gli fanno delle domande incalzanti, stringenti. Eppure lui non sembra temere questi suoi carcerieri, anzi, pare essere il contrario a dire il vero. gli pongono queste domande che sembrano avere timore di lui per ciò che potrebbe fare o magari ciò che potrebbe dire ma non è dato saperlo. Come non è dato sapere il nome di questo personaggio? Il prologo si interrompe qui e avviene l'unico bazzo temporale di tutto quanto è il libro. Si torna indietro e viene presentato il primo protagonista che è il Massimo. È un uomo sui 30 anni, una vita tranquilla, una moglie, una figlia. Cerca come tutti noi di infilare i propri hobby nella routine quotidiana. non sembra essere un personaggio speciale eppure farà qualcosa di speciale per proseguire all'interno di questa storia molto articolata. Ma non è ovviamente questo il momento di svedarlo. Il secondo personaggio invece si chiama Anton ed è introdotto in modo decisamente più crudo. Anton è un bambino a 9 anni ed è sdraiato su un lettino ospedaliero. Un co... è tenuto in coma farmacologico perché un tumore in metastasi ormai in una rarissima forma lo sta lentamente consumando e i suoi farmaci potrebbero essere sospesi. Il problema è che nel momento in cui verrebbe svegliato il suo visivo collasserebbe e morirebbe nel giro di pochissimo tempo. Ed è qui che entrano in gioco i personaggi secondari di sostanze quelli di supporto. In modo particolare Agatha un personaggio che mi è rimasto nel cuore è il mio preferito perché è una donna che ha una forza d'animo ineccevibile fortissima farebbe qualsiasi cosa per il suo figlio oltre tutto quello che ha già fatto pur di salvarlo. perfino prendere quella decisione così straziante che è l'utilizzo sul suo bambino della sostanzia. Un particolare liquido che mira a curarlo promette di curarlo ma del quale non si conoscono poi gli effetti colaterali. E quindi qui abbiamo diciamo dato un breve accenno ai personaggi. Sì però non fraintendetemi a questo punto non si parlerà del romanzo come cercheremo di curare un bambino malato o di come Massimo tenterà di far felici i suoi cari sostanzia parla di tutt'altro parla di esperimenti su cavi umane questi due personaggi verranno inseriti all'interno di questo mondo forzatamente e durante tutto il libro avranno in testa solo due domande riuscirò a tornare alla mia vecchia vita consapevoli che non sarà mai più la stessa in realtà e l'altra domanda è cosa sei risposto a fare? Cosa sei risposto a fare per proseguire in questo programma? Cosa sei risposto a fare per scoprire se ciò che stai facendo al di là di ciò che stai facendo c'è qualcosa di non così limpido se dietro questa parete trasparente in realtà c'è qualcosa di torbido in sostanza i protagonisti cercano costantemente insieme al lettore di discernere ciò che è bene da ciò che è male ma non laddove tutto è lecito laddove qualcosa diventa di fondamentale importanza per noi e allora dove poniamo quella sottile linea rossa che divide il bene dal male quando per noi qualcosa diventa importantissimo vitale e ci rendiamo conto che è puramente soggettiva esatto e penso che si possa trovare tranquillamente anche senza leggere il romanzo in situazioni in cui dobbiamo vedere scelte per i nostri cari che sono impopolari o comunque anche moralmente diciamo un po' corrette e quindi insomma c'è spunti di riflessione in questo romanzo quindi non sono completamente d'accordo con l'autore quando dice che il libro non aiuta a crescere o comunque non aiuta non arricchisce il lettore secondo me ci sono anche spunti in cui invece fa riflettere e riflettere sulle proprie esperienze porta comunque la persona a crescere che cosa succederebbe a me se mi trovassi in una situazione del genere e non è del tutto impossibile inturbabile che succeda anzi più si va avanti e più situazioni del genere possono verificarsi a quel punto ho detto che cosa farei io queste sono domande che aiutano parecchio a crescere e a far crescere insomma chi è che intorno a noi quindi questo è il punto secondo me sono contenti d'accordo quando alla mia domanda di prima hai fatto quella sì è una sfida ma secondo me anche molto importante per le persone anche per riflettere sulle proprie esperienze personali e guarda a questo punto io volerei la palla al bazzo per leggere una parte del romanzo e in parte darti anche ragione è contento? grazie quale parte ci come perché questa parte particolarmente? ho deciso di leggere il secondo capitolo non vi dirò il perché vorrei che lo ascoltasse e provasse a diciamo così ad avere un'emozione pensate a cosa vi suscita è il secondo capitolo del romanzo così non vi svelerò niente di evocare il corridoio è lungo e deserto le anonime pareti bianchissime riflettono la luce alogena delle lampade poste sul soffitto non ci sono odori nell'aria e l'unico rumore ridondante è quello di affannati passi di dottori e ricercatori che sfrecciano da una stanza all'altra uscendo da una delle infinite porte del corridoio per entrare in un'altra poco distante in questo lungo canale di cui non si vede la fine c'è solo una sedia di un rosso che stona con l'ambiente circostante e che sembra essere stata messa lì di proposito accanto alla porta col numero 1045 dove spicca su una tavola metallica il nome del dottor Marcus Manders poco sotto a caratteri più piccoli centro di ricerca sulla sostanza per l'umanità seduta sulla sedia c'è una donna sui 50 tiene le mani serrate in grembo e la schiena ricurva in avanti è il volto evidentemente provato dalla stanchezza e c'è la sofferenza è ben vestita e l'abito azzurro che indossa sembra cazzarle a pennerlo i capelli biondi splendono sotto la luce ghiacciata delle lampade e se non fosse per la sua presenza quel tortoso labirinto di porte e pareti sarebbe vico di ogni colore cicolando la porta 1045 si va lasciando uscire un uomo in camice bianco prezzolato e stempiato con degli occhiali da vista decisamente anni 50 tiene mano una cartella clinica di un gioco sbiadito signora Volco Agatha alza lo sguardo i suoi occhi azzurri come il mare sembrano a chiedere pietà poi con quello che pare uno sforzo notevole si alza in piedi entri nella stanza per favore lei segue con stanchezza il dottore senza aprire bocca vedendo la porta chiaro di sé la stanza è illuminata da una luce suffusa si possono scorgere nella penombra un paio di armadietti per i camici ospedalieri un lettino da ricovero e un banco con molti strumenti chirurgici il neon sul soffitto è spento e l'unica fonte di illuminazione sono due piccole lampade su un'enorme scrivania e una lavagna luminosa la donna continua a tacere mentre il dottor Manders apre la cartella clinica e inizia a sfogliarne le pagine i due sono divisi solo dalla lampia scrivania grigio topo su cui lo scienziato sfoglia con delicatezza il plico si sieda pure signora Volco Agatha tira a sé la sede dal suo lato del tavolo e vi si siede con rassegnazione chiamami pure Agatha non fingiamo di non esserci mai visti l'uomo guarda distinto gli altri dottori in piedi dietro di lui poi torna a fissare le carte come vuoi Agatha in tal caso possiamo darci del tu vista la situazione chiamami pure Marcus seguono attimi di profondo silenzio mentre l'uomo dispone in maniera ordinata le carte sul tavolo i presenti osservano l'alternarsi dei fogli zeppi di parole a quelli con le foto di un bambino sul letto d'ospedale e intubato corredati da referti medici con firme, timbre e diapositive Marcus ne appende una alla lavagna luminosa e inizia il suo discorso Agatha come già sa le condizioni di salute di tuo figlio sono pessime non sarò qui a dirti cosa si potrebbe e non si potrebbe fare per il bambino abbiamo già tentato il possibile ma il tumore è estremamente esteso e tenerlo in coma farmacologico ne sta solo ritardando un'ulteriore espansione la situazione è davvero critica e ritengo che non rimangono più di due mesi di vita al piccolo Anton scusami se sono stato troppo esplicito la donna sembra immersa nel suo dolore o osserva con amarezza la diapositiva satura di macchiorine nere ha ormai pianto tutte le lacrime che una madre può piangere e non sente più nulla se non un secondo senso di rassegnazione speravo che fossi diretto ho marcos sincero e realista questo inferno va avanti da troppo tempo e ho bisogno di certezze seppur ho libri la voce le trema ad ogni parola ma seppur flebile deve continuare se vuole delle risposte quindi alla fine morirà sapevo sarebbe arrivato questo momento mi ero preparata ma non credevo potesse fare così male posso almeno parlargli un'ultima volta prima che si spenga il dottore tira subito gli occhiali con il dito rimettendoli al loro posto sul naso aquilino poi emette un lievissimo sospiro Agatha, vorrei chiederti una cosa tu faresti di tutto per tuo figlio a cosa sei disposta per salvargli la vita? sentendo quelle parole il donna si alza in piedi e tira fuori la voce non ho già fatto tutto sangue, midollo, rene se potessi gli donerei la mia anima anche solo per vederlo vivere un giorno Marcus, cosa sta cercando di dirmi? ti prego, non mi illudere anche tu non ho più le forze per farlo sarò sincero con te sei una donna formidabile per carattere e determinazioni ma non so se condividerai quello che sto per proporti il dottore raccoglie il sistema velocemente tutti i fogli sulla scrivania stacca dalla lavagna luminosa la diapositiva e ripone tutto nella cartellina sberita poi la sistemi in un cassetto del mobile da dove prende una busta che pone nel bel mezzo della lunga scrivania prende il tagliacarte e recide con il nastro il nastro con un gesto deciso è arrivato stamattina apre la busta e ne sfida un piccolo fasciclo e legato con cura e sulla cupo pertina è stato scritto in chiara lettere dorate applicazioni medico-chirurgiche della sostanzia dottor Ramiro Asimo Marcus afferra il manoscritto e lo gira verso la donna affinché possa leggerla ma la reazione di Agatha non è quella sperata oh mio dio Marcus volete provare sugli esseri umani quella cosa? la donna allontana il plico con la punta delle dita e torna a sedersi spaventata e se gli faceste del male come potrai torturarlo ancora? Agatha, tuo figlio sta morendo non c'è medicina al mondo che possa curarlo e se provassimo a svegliarlo dal coma il suo corpo collasserebbe non farebbe in tempo a parlare perché i suoi organi non funzionerebbero a dovere lo vedresti vivere gli ultimi minuti tra atroci dolori finché il cervello non decrederebbe il malfunzionamento della macchina staccando la spina vorresti che siano questi gli ultimi momenti del tuo figlio? o desideri veramente salvarlo? la donna scoppia fragorosamente in l'anima non lo ascolta si prende la testa fra le mani la scuola con forza chiedendosi perché tutto questo sia successo a lei che fino a un anno prima viveva felicemente la sua vita e giocava col suo bambino poi dopo un lunghissimo respiro torna a parlare ti lascerò spiegare Marcus però se non mi piacerà quello che hai da dire pretenderò che il nostro figlio muoia come il nostro signor ha stabilito va bene, deciderai tu innanzitutto il reparto di ricerca sul cervello del CRSU lo segui da 5 anni ormai e abbiamo imparato da lui più di quanto siamo riusciti a insegnare lui è il nostro figlio è una risorsa per l'umanità che non può e non deve morire pensa a cosa potrebbe scoprire se solo riuscisse a vivere altri 10 anni Marcus, non fare leva sulle mie aspirazioni di madre ti prego so solo che mio figlio sta morendo continua con le tue spiegazioni l'uomo cerca di ricomporsi e di tornare distaccato certo, scusami pure guarda il fascicolo la donna le dita della donna tremano al solo sfiorare i fogli rimane in silenzio mentre con una mano continua a sfogliare le pagine del fascicolo e con la bocca mangia nervosamente le unghie dell'altra Marcus, io non ne capisco nulla di tutte queste formule e termini scientifici tu cosa ne pensi? tutti rimangono spiazzati da quella richiesta d'aiuto il brusio di sottofondo cessa immediatamente il dottore porta la mano alla fronte e mette nuovamente a posto gli occhiali e continuano a scivolargli sul naso Marcus, ci conosciamo da molti anni ti prego di togliere quel camice per un attimo e indossare gli abiti del padre ti scongiuro sii sincero con me e con te stesso faresti questa cosa a tuo figlio ne hai valutato tutte le possibiche complicazioni l'istinto l'uomo inizia a giocare nervosamente con la fede d'oro che ha al dito l'animo diviso tra l'amore per la famiglia il dovere verso la scienza Agatha, io voglio che Anton viva non credere che lo veda solo come un dottore uno scienziato questo è il mio lavoro è vero ma anche io ho un cuore conosco amore e sofferenza dobbiamo, anzi devi tentare quest'ultima possibilità che ti è stata concessa nulla avviene per caso la donna smette di mordicchiarsi le dita con lo sguardo supplichevole di chi cerca solo un po' di conforto prende la sua decisione e sia crederò in quest'ultimo tentativo ma voglio stare vicino al mio figlio e poterlo vedere tutti i giorni se lo desidero dovremmo trasferirlo in un centro organizzato l'ospedale in cui è ricoverata ora non hai mezzi per ospedare un esperimento di tale portata farò in modo che tu abbia una stanza in cui possa stare Agatha inizia a piangere sommessamente e Marcos le si avvicina e abbraccia andrà tutto bene non perdere la speranza ti prometto che salveremo Anton e torneremo a essere la famiglia felice di una volta ho firmato perché ti amo Marcos solo perché ho un estrema fiducia in te e non voglio vivere senza nostro figlio lui la stringe con decisione accarezzando la testa si inghiuzzante sul petto non accadrà mai ho fatto questo per salvarlo per salvarci tutti e tre così si conclude il secondo capitolo di sostanze e torniamo al discorso di prima dov'è la differenza tra il bene e il male da una parte una madre alcorata che fa di tutto per salvare il figlio dall'altra un medico che segue la scienza ma che non ce la fa più alla fine a rimanere dentro al suo camice ed è qui che loro potrebbero fare del male al bambino cercando di fare il meglio in realtà o viceversa cercare di provare probabilmente sembra che gli stiano facendo del male ma magari fare del bene a lungo termine ecco qui la differenza che dicevo prima tra bene e male è puramente soggettiva appunto lascia sempre alla fine di ogni capitolo di una chicca del romanzo oltre a fare delle immagini che focalizzano le scene di finire sempre con qualcosa che lascia il sospeso per il capitolo successivo oppure dire che significa salvaci tutti e tre in quel momento nel secondo capitolo cosa potrà significare salvaci tutti e tre? ovviamente le risposte si avranno durante la lettura del romanzo torneranno alla mente sono state scritte appositamente anche in grassetto in modo da risattare un po' alla memoria di chi legge questa è la scena sì esatto nulla è stato lasciato al caso non solo a livello di trama ma anche a livello visivo a partire dalle immagini fino alle frasi significative in grassetto insomma con un romanzo coinvolgente consigliabile spero che abbia il successo che tutti ospitiamo è uscito da partissimo quindi faremo sapere come va nei prossimi giorni buonasera a tutti grazie di essere qui presenti e avete partecipato a questa bella esperienza ovviamente avete domande da fare all'autore qui per voi a disposizione potete chiedergli tutto quello che volete anche io non posso insomma non ringraziarvi per essermi stati a sentire questa questa mezzoretta qui davanti il religioso silenzio quindi grazie davvero spero di avervi messo un po' di curiosità ecco quella necessaria per farvi scegliere sostanze come il prossimo libro da avere sul comodino se così non fosse comunque grazie per aver partecipato a questa serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti